Abbiamo capito quindi che giocando sulle parole, giocando sulle cose, si fanno passare principi che però poi dopo noi, anche con una semplice osservazione empirica, vediamo che non sono reali, non sono reali come l'immunizzazione di cui abbiamo parlato. Abbiamo visto, abbiamo sentito anche, ce l'ha confermato il professor Faiese, l'avvocato Olzeisen, che in realtà c'è una legge che obbliga i sanitari e oggi addirittura anche gli insegnanti ed altri a immunizzarsi, ma non c'è un farmaco che lo fa. Sì, però l'infezione naturale lo fa. L'infezione naturale lo fa. Peccato che ci sono meno. Precisa bene questa cosa, cioè se tu ti prendi l'infezione e guarisci, allora sei immunizzato. Eh sì. E questo volevi dire? Sì. Cioè è l'infezione naturale che prendi che lo fa, cioè che ti immunizza realmente nel futuro. Cioè la protezione è 16 volte quella che ti viene data dalla vaccinazione, mi dispiace i dati su questi. Tra l'altro sarebbe molto opportuno differenziare nei vari gruppi che vengono presentati nel tempo, chi è avuto la patologia e poi è stato forzatamente vaccinato, che è una cosa che a livello fisiologico non ha nessun significato e i miei colleghi medici lo sanno tutti. Ma perché allora accettano? Vi ricordo che hanno trovato gli anticorpi per la spagnola su Nature, è stato pubblicato una vicina di anni fa, 90 anni dopo che c'era stata. Sentite? 90 anni dopo. Dopodiché mi venite a dire che invece su questo non sappiamo quanto dura l'immunità. E quindi devo andare a leggere sempre su Nature che dopo un anno incredibilmente ci sono ancora gli anticorpi circolanti senza prendere in considerazione linfociti B e T. No, dobbiamo riapprovarci della logica, della verità e porre fine a questo stadio di assedio. Ecco, grazie, grazie. Allora Giovanni, noi dobbiamo continuare questo discorso perché oggi il tempo passa, adesso l'avvocato Ossia ci deve raccontare una cosa interessantissima, cioè spiegare una cosa interessante, giuridica, burocratica, ma qui sulle questioni scientifiche tu devi tornare qua a finire e raccontare questa storia. Sì, sì, ma diamo spazio alla... Eh no, ma perché questo è importante. Ci torno, ci torno, diamo spazio alla... E ci devi tornare. Allora, Renate, hai sentito che ha detto il professor Fraiese? Cioè, voglio dire, ma questo mi sembra importante però. Assolutamente, ormai ho letto che due o tre giorni fa quantomeno un membro del comitato tecnico-scientifico ha ammesso proprio finalmente questo, che appunto quelle che hanno superato, che hanno avuto l'infezione via naturale, che hanno sviluppato dunque gli anticorpi, devono appunto essere considerate immuni, che quella sì che è una immunizzazione che dura come quello stesso membro che mi sa dovrebbe essere il professor Paolo Gasparini, avrebbe dichiarato pubblicamente, è l'immunità naturale maggiore e di più lunga durata di quella determinata da vaccino. Vabbè, ma allora scusami... Eh sì, ma allora scusa, però scusate, ma qui succede però che poi Green Pass, quello dura due mesi, poi sei mesi, poi no, quello col vaccino dodici, poi nove... Ma ragazzi, ma questo circo, ma lo facciamo finire? Ha ragione Giovanni quando dice, ma facciamo finire sto circo. Ecco, poi c'è un'altra questione... Ecco, scusami perché abbiamo veramente... abbiamo pochi minuti però, allora c'è una questione, poi ci torniamo, ragazzi, dobbiamo tornarci, è chiaro, Francesco ci ospiderà di nuovo, e quindi ci dobbiamo tornare nei prossimi giorni. Poi adesso c'è il Natale e ne approfittiamo, ma anche nella settimana fra il Natale e il Capodanno, di parlarne, perché no, insomma siamo qui, la gente è a casa, ci guarda in tv, ci senta la radio, allora, però, queste sono cose importanti, non possiamo ignorarle e stare a sentire sempre queste puttanate che ci raccontano, perché basta, basta con il terrore, ha ragione Giovanni, basta col terrore, basta con le menzogne, cioè dobbiamo venirne fuori, se ne viene fuori scientificamente, non con le uscite di questi pagliacci da circo che fanno pure le canzoncine, e basta ragazzi, io ho le palle piene, veramente, noi vogliamo vivere, adesso dopo domani qui nel Lazio un altro sceriffo si è alzato e ha detto tutti con le mascherine all'aperto, ma c'è una logica scientifica questa, Vanni, ti prego, ma basta, ma non siamo le vostre cavie o i vostri schiavi, ma io non me la metto fuori, ma manco se mi pagate a lingotti d'oro, va bene, io giro per le campagne, vado in giro, cioè io, ma voglio, ma siete matti, non avete neanche diviso, che ne so, il grande assembramento ci può anche stare, ma tu così, tu cur, tutta la regione, ma che cazzarola dici, ma io vado a fare una passeggiata a Terminillo, secondo te io mi devo mettere la mascherina, cretino, così siamo tutti spaventati.